Come sono infelice! Ancora sta tosse! E mi sento una roba qui che mi opprime, soffoca! Non so, starò rintanato in casa! Non vedrò nessuno! Piccolo! Se non ci fosse sempre mogliettina! Vix Tosse fluidificante dà un rapido senso di sollievo, scioglie il catarro e fa passare la tosse. Passata la tosse? Sì, ma mi coccole ancora, eh? Vix Tosse fluidificante ti libera dalla tosse rapidamente. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico.